Benvenuti a tutti ragazzi, bentornati come sempre sul canale di Giochi Next Gen, io sono AngeloNero83 e oggi sono qui su Mortal Kombat X. Allora ragazzi, non gioco praticamente dall'uscita di questo gioco, niente praticamente sono andato in stanze, in una stanza qualsiasi e sono stato sfidato da questo giocatore. Quindi ovviamente ragazzi, non gioco veramente da mesi, da quando è uscito se non ricordo male ad aprile, quindi se vedete che prendo tante di quelle palate, se per caso mi veste nervosire non fateci caso, ma veramente non gioco da tantissimo tempo a Mortal Kombat, quindi ora prenderò tante palate. Vediamo subito come va il primo round, subito, ah io sono Sub-Zero, attenzione, attenzione lo sto picchiando, ragazzi qualcosina, ho vinto il primo round, qualcosina me la ricordo, vediamo un po' il secondo round come mi va. Spero che non sia, anche se non mi sembra uno di quelli ragazzi che sfruttano tipo sempre la stessa mossa, tipo sempre il cappello di Kung Lao, mamma mia ragazzi mi ha fatto una super mossa, eccolo qua, questa fa male ragazzi, questa fa male, poi mi devono spiegare dopo che ti ha perforato lo stomaco come fai a alzarti e a combattere, normalmente grande Sub-Zero, ancora col cappello questo ragazzi sta giocando di cappello, ragazzi mi sa che questo round l'ho perso infatti, un round pari, vediamo un po', grande Sub-Zero. Solo qua, no, basta, hai rotto il cazzo questo cappello, ecco qua, vai di cappello che ti rievito e ti distruggo, no, no ragazzi ce l'ha fatta, mi ha fatto la super mossa, maledetto, mi ha battuto di poco ragazzi, mi prenderò la rivincita se questo qua vorrà, comunque, no mi ha battuto ragazzi, niente da fare Peccato, comunque ragazzi per essere il primo match pensavo peggio, ok ragazzi il mio avversario di prima ha deciso di non continuare, quindi niente di vincita e ora sono col secondo avversario, avevo una probabilità di poter vincere del 43%, quindi basta comunque, è leggermente favorito lui Vai Sub, ecco, oh mi ha fermato il ghiaccio, brutto bastardo, oh bastardo mi ha fatto la super mossa ragazzi, niente da fare, ma io non capisco come fanno a caricarsi subito la super mossa Ecco qui, primo round a suo favore ragazzi Vai Ragazzi, una partita un po' Si tiene sulla difensiva, no vabbè ragazzi qua c'è, si tiene sulla difensiva ragazzi, ma che modo ti, ah divertiti, guardate ragazzi si sta per i fatti suoi Spero che questo voglia scherzare, vediamo, vabbè ragazzi fa sempre la stessa mossa, non mi piace giocare con sta gente qui però Ok ragazzi ha accettato la mia rivincita, quindi siamo di nuovo contro di lui, spero che non faccio di nuovo lo stesso giochetto perché è squallido Ecco qua, legati questo va, questo, questo Vai, vai sub, subito sub Prenditi questa Ti costringo a saltare Eccoti qua, prenditi che anche questa va Vediamo se questa, si, primo round vinto Ragazzi lo stanno attento perché c'è una super mossa Vediamo Essere sprecata Ok ora andiamo all'attacco Ok Eccoti qua, vieni vieni bello, vieni Guardate che ragazzi fa di nuovo lo stesso giochetto di prima Eccoti qua Ah io ti faccio il mio giochetto No bastardo Vogliamo giocare così e giochiamo così Ragazzi stiamo più o meno pari Vediamo se riesco, si Eccoti qua, prenditi Vediamo, si Siiii, ce l'ho fatta E non c'ho però ragazzi, non c'ho purtroppo Non c'ho fatality Però vince, vince questa partita Ok ragazzi, ultimo round Come avevo detto prima Sempre contro lui, con persona C'è sempre l'anno C'è Wanchii in cui Comunque provo a batterlo Vediamo Se riesco a batterlo con 1C E ha sbagliato ragazzi Ragazzi se parlo poco scusatemi ma Mi voglio un po' concentrare perché Voglio cercare di batterlo nuovamente Visto che comunque siamo più o meno a pari livello Con la differenza che io ho preso un personaggio random e lui no Eh si vince il primo round con 1C Vince il primo round Vediamo un po' se riesco a batterla Subito Devo andare di cattiveria ragazzi Di cattiveria Vediamo Che ora super Eccola qua lo sapevo che avrebbe provato ora la super mossa Te l'ho fatta sfrecare Mi dispiace ma Anzi non mi dispiace un cazzo in realtà Sì sì copriti Spiacente ma stavolta hai rotto il cazzo Sempre con le stesse mosse Ecco qua e vince Vince lo batte ragazzi Lo batte come ultimo round Non avendo fatality Sono costretto a fargli questa Ok ragazzi Spero che questo episodio di Mortal Kombat vi sia piaciuto Se avete qualche idea Suggerimento di qualche serie che vi potrei portare su Mortal Kombat Fatemelo sapere Lasciate qualche commento Lasciate mi piace I like Comunque mi raccomando Qui da AngeloNero83 è tutto Come sempre sotto trovate i miei contatti Ci vediamo al prossimo video ragazzi Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti